prima cosa da fare se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché di questi video ne faremo in quantità industriale in questo periodo andiamo a vedere dal weekly la situazione di bitcoin e poi ci sposteremo su tutte le altre altcoin e andremo a vedere anche il dollar insomma di carne al fuoco ne abbiamo molta non voglio perdere troppo tempo ci eravamo lasciati nell'ultimo video con questa situazione weekly ovvero avevamo detto che c'erano dei minimi da sbilanciare abbiamo perfettamente fatto il movimento che in realtà aspettavamo quindi quello di andare a sbilanciare questa zona weekly e per la precisione i 29 li stiamo rompendo non ci sono volumi importanti e questo per il momento per il momento non è un segnale del tutto del tutto short mi spiego meglio questa presa di liquidità è in realtà quello che volevamo vedere non so se vi ricordavate avevamo detto che dovevamo tornare in queste zone proprio cioè quindi queste zone per andare a sbilanciare questo questo livello di prezzo e poi vediamo vediamo se riconquisteremo i 29 e poi andremo a rompere i 29 500 se dovessimo fare questo movimento quindi recuperiamo i 29 e andiamo a rompere questi massimi allora il trend è di nuovo long ok il target del del long chiaramente potrebbe essere innanzitutto i 30.500 perché è lo stesso livello che avevamo visto no prima dello sbilanciamento quindi questo livello da dove sono iniziati a partire gli short sbilanciamento e ora potremmo tranquillamente ritornarci come però come target long ripeto se dovessimo andare a recuperare i 29 e poi a rompere con forza i 29 500 potrebbero essere ancora come avevo detto i 33 mila va bene quindi questa zona qui però però con calma facciamo con calma allora il primo movimento è stato fatto prima di urlare al long ok andiamo a vedere se recupereremo innanzitutto i 29 perché se non recupereremo i 29 quindi torneremo cioè continueremo questa discesa che potrebbe tranquillamente arrivare a 28 ok chiaramente la strategia long si invaliderebbe ci siamo andiamo a vedere il daily allora adesso così andiamo a vedere un po quello che sta succedendo in realtà poco è cambiato no nella situazione daily ma abbiamo guardate il mio indicatore ve l'avevo detto aveva fatto un po da tetto eccolo qui sempre così vi faccio vedere questo qui era la linea del mio indicatore e avevo detto guardate questa zona potrebbe fungere da supply andare tranquillamente in basso ma come è valido per il long lo sbilanciamento lo sbilanciamento è valido per lo short ovvero se questo cioè se questa è una presa di liquidità e di continuazione short potremmo scendere ancora più in basso se questa invece non è una una presa di liquidità short potremmo vedere una situazione del genere ovvero guardate disegno questa zona di un colore che non abbiamo sul grafico facciamo la facciamo la facciamo la facciamo gialla allora quindi che cosa voglio dirvi voglio dire che potremmo tranquillamente fare un qualcosa del genere quindi andare a recuperare questa zona fare un ritest ok quindi una mitigazione e andare a prenderci queste zone tranquillamente questo movimento potrebbe fare tranquillamente e rimanere short va bene ecco perché vi dico attenzione perché i livelli sono molto difficili quindi se andiamo poi a superare questa zona qui lateralizziamo anzi rompiamo possiamo tranquillamente di nuovo scendere poi andare a continuare in questa zona qui guardate ve lo faccio vedere quindi potrebbe fare tranquillamente un qualcosa del genere e questo mi piace come scenario long voglio quindi vedere il ritorno prima prima cosa ve lo rifaccio vedere con le frecce prima cosa che voglio vedere recupero dei 29 ve lo ridico perché poi mi dicono che non sono chiaro non si era capito allora recupero dei 29 voglio una un ritesta ok quindi voglio vedere che i volumi cominciano aumentare qui voglio la rottura di questa zona dei 30 mila 500 dei 30 mila scusate sempre con volumi e dov'è che noi entreremo long entreremo long alla rottura di questa zona qui va bene perché se non rompiamo questa zona dei 30 mila 500 potrebbe tranquillamente essere un segnale ancora short di continuazione voglio vedere un qualcosa del genere per poi andare a continuare questa zona e rompere i 31 e fischia dove ho scritto super long sopra questo livello non ci sono santi va bene io questo lo devo assolutamente vedere quando mi chiedete se andrò long vi ripeto devo vedere questa schematica altrimenti non vado long semplicissimo continuazione short invece potrebbe essere potrebbe essere che andiamo a tranquillamente a rompere queste zone di conseguenza tornare ancora a livelli più bassi vediamo se a 28 che sono i primi i primi accenni di volumi importanti è anche un massimo che aveva precedentemente toccato quindi potrebbe tranquillamente sui 28 farsi farsi sentire un rimbalzo i bullse potrebbero far sentire se così non fosse attenzione perché attenzione perché tolto questo tolti i volumi che ci sono a 27 e 500 più o meno guardate che il prossimo step sono i 26 26 eccoli cioè è il minimo è questo è quindi attenzione attenzione prendere adesso cioè entrare adesso convinti che questa sarà una presa di liquidità che farà che il prezzo da qui da questo momento farà un qualcosa del genere se ne andrà non so dove io non ho detto che non potrà farla una cosa del genere ma io non entrerei mai prima dei 30 mila 500 come continuazione perché in questo momento di macroeconomia in questo momento di di mercato io vi dico per me adesso se non ho conferme dal grafico si va short questo è uno short punto detto questo andiamo a fare una situazione un pochino più ampia allora vedete questo canale che ha toccato più volte ora ve lo faccio vedere sempre con questa mia freccia gialla che ormai è diventato il mio indicatore preferito guardate vedete questa questo canale parallelo che ho disegnato ok guardate come tutte le volte che lo ha toccato ecco perché vi dicevo attenzione non dobbiamo andare a rompere questa zona perché se rompiamo questa zona è pericoloso che cominceranno entrare gli short cominceranno entrare gli short e vi ripeto se se uscirà anche qualche notizia qualcosa di strano quindi che darà fuoco a questi short attenzione perché si potrebbe tornare ben più in basso va bene io non voglio rovinare la festa di chi dice che adesso andremo long perché sta aspettando la schematica che vi dicevo ma purtroppo è questo cioè dobbiamo renderci conto che questa è una situazione probabilissima probabilissima se andiamo a vedere la market cap sempre sul daily senza scendere chissà dove eccolo perché vi dico ci potrebbe essere una reazione perché perché in questa zona c'è la 200 la media 200 periodi buona ottima in questa situazione soprattutto sulla market cap perché potrebbe far sì che il prezzo vada a rimbalzare vediamo però perché in questi giorni capitali stanno uscendo non stanno entrando mi raccomando bisogna starci un po con con il grafico bisogna guardarci guardarlo bisogna non far finta che queste cose non stiano succedendo sempre da conferma guardate il dollaro chi ha visto le precedenti live l'avevo l'avevamo detto ma mi va di ripeterlo guardate che il dollaro sta recuperando terreno attenzione guardate qui come ha rotto il canale poi l'ha recuperato rottura della media 200 periodi attenzione perché il target potrebbe essere ben più ben più in alto ok se andiamo a vedere faccio sempre il discorso della frattalità che non deve essere una frattalità solo su time frame come dico sempre se non sapete di cosa sto parlando guardate l'ultimo video perché l'ho spiegato non mi va altrimenti spiego sempre le stesse cose poi chi è attento e vede video e poi si annoia ethereum guardate la frattalità con ethereum che cosa vuol dire vuol dire se stanno un po facendo gli stessi movimenti quindi se i capitali stanno proprio uscendo dalle cripto è cosa che mi potete potete dire potresti andarla a vedere con la market cap sì ok giusto però guardiamolo anche qui sul grafico media 200 periodi che per il momento non sta tenendo anche qui io che cosa voglio vedere siamo su grafico chiaramente all'intanto andiamo ad aggiornare dove siamo arrivati quindi a un meno 15 per cento dai massimi anche qui io voglio vedere un recupero di questa zona ok non voglio cioè io non entro guardate io non voglio entrare qui è che sia chiaro no sbagliato cioè io non entro la rottura di questa roba ve l'ho detto sempre non entro la rottura della trend line per me la rottura della trend line dinamica è solo una conferma non è un segnale voglio vedere questo voglio anche qui vedere un ritest in questa zona scusate lo rifaccio medio quindi rottura ritest rottura di questa zona qui anzi meglio se questa perché questa è una zona secondo me di supply è qui che ci interessa quindi i 1.890 rompere i 1.890 rompere la trend line che si è venuta a creare in questa situazione perché come vedete ethereum in questo momento è in fase laterale vedete quindi tranquillamente potremmo andare a ritestare anche più in giù scusate ho troppi disegni mi sto impappinando allora vi dicevo scusate torniamo a recuperare questa zona ritest rottura di questa zona rottura di questa zona qui abbiamo un ritest e facciamo una roba del genere questo vi voglio vedere una roba del genere io aspetto questi movimenti se e voi mi direte ma ti perdi tutto questo ti perdi tutto questo movimento se non entri adesso certo ma voi potete anche entrare possiamo anche iniziare a parzializzarla una posizione long se credete che in questa zona rimbalzerà certo non dovete metterci i soldi questo è chiaro però se volete iniziare una posizione long da questa zona per poi incrementarla mano mano che vi darà conferme è un qualcosa che potete fare ma potete farlo solo dopo averlo backtestato non fatelo perché adesso l'ho detto io allora entrate perché così la provo non si prova con i fondi si prova prima quindi fate backtesting della cosa e poi entrate io vi dico un qualcosa che potrebbe si potrebbe fare una strategia che si potrebbe attuare ma non è detto che da questa zona qui andiamo a ritoccare zone tipo dei 1700 1700 qualcosa ci potremmo tranquillamente ritornare e a quel punto sarebbe un po' rischioso perché magari il trend invece di andare a recuperare va a fare un'inversione quindi va a fare un qualcosa del genere una serie di fase laterale per poi riscaldare bisogna monitorare ecco perché vi dico state tranquilli adesso non urliamo ai 12 mila di bitcoin calmi c'è stato un ritracciamento del 2 per cento un attimo il 2 per cento su bitcoin non è nulla lo sapete quindi andiamo a vedere tiri un bitcoin sempre su dei su grafico daily in realtà qui non abbiamo nulla di che se non se non questa che potrebbe tranquillamente continuare ad essere una presa di liquidità guardate riprendo il mio strumento essenziale anzi ormai lo metto come preferito perché stiamo sempre usando questo questa potrebbe essere una presa di liquidità vedete e la rottura dei 0,063 potremmo continuare andiamo a vedere dot dot avevamo impostato il target qui praticamente lo ha raggiunto nulla di nulla di nuovo ok dot si trova su una fase molto particolare dove anche qui avremo comunque bisogno di conferme anche qui avremo comunque bisogno di magari di andare tranquillamente a ritestare questa zona quindi dei quattro la zona dei quattro per prenderci la liquidità sotto questo minimo e andiamo a vedere poi se da lì ripartirà quindi anche dot secondo me una buona zona di entry un buon target comincerà ad essere questo quindi la zona dei 4 dollari quindi la zona dei quattro dollari per incominciare a ad entrare con una posizione long di medio periodo su dot secondo me non è male e cosa avevo detto che sarei voluto andare a guardare volevo andare a guardare let coin perché avevamo detto che la prima cosa che volevamo vedere era ai meno 25 meno 25 per cento dai massimi che era questa zona qui meno 25 per cento dei massimi volevamo vedere un rimbalzo non c'è stato e vi avevo detto che se non saremmo andate a rimbalzare sui 25 saremmo andati a cercare un meno 36 per cento e perché do questi numeri che non sono numeri ma sono esattamente le percentuali che ha toccato light coin le volte precedenti prima di ripartire se andate a cioè backtestate la cosa se non vi fidate andate a vedere l'ultimo video che ho fatto perché c'è e l'ho fatto vedere altrimenti diventa un copione dell'ultimo video in questa zona quindi la zona dei 70 71 potrebbe essere un buon inizio per incrementare un ipotetica posizione long di light coin ok poi ritorniamo un attimo a bitcoin quindi abbiamo dato una panoramica generale un po delle cose che sto aspettando io per entrare long ma ma sempre monitorando quello che sta succedendo perché oggi io vi dico che stiamo qui in questa zona e potrebbero verificarsi queste situazioni quindi ritorniamo sulla zona di fair value e proviamo a vedere se questo long funziona ma non è detto che magari con l'aiuto di qualche notizia vediamo anche come aprono i mercati oggi non è detto che poi si vada atto si vadano a toccare zone cioè quindi andiamo a ritestare questa zona dei 29 ma poi magari andiamo a scendere forte ok e attenzione perché questi sono sono scenari molto probabili di ritornare a 26 perché se si crea un po di panico un po di fad un po di che vediamo che le borse cominciano a scendere vediamo che i capitali come stanno facendo stanno uscendo dalle cripto pocio pocio perché si può continuare tranquillamente a scendere ok se continuiamo a scendere continuiamo a vedere che poi i volumi aumentano e andiamo a vedere che ogni livello che abbiamo che abbiamo detto non viene preso come punto di inversione attenzione attenzione perché si può scendere ancora di più e con impulsività attenzione detto questo non la facciamo più più lunga spostiamoci sul grafico 4 ore vi faccio solo vedere quello che in realtà avevamo già visto potrebbe esserci un'ipotetica inversione del trend se noi adesso anche a chiusura di questo di questo gap di questo fair value gap ora vi dico la zona che è questa in realtà la zona adesso ve la faccio vedere 28 e 500 più o meno se noi andiamo a perdere questa zona attenzione attenzione perché si andrebbe ad invalidare questo ipotetico long che stiamo aspettando e da questa zona qui se vediamo che non ce la facciamo il trend potrebbe tranquillamente continuare a scendere va bene ma lo monitoriamo lo monitoriamo non darò segnali di trading quindi io sto aspettando dei segnali per andare long per cercare di andarci a prendere un gain almeno del 10 15 per cento va bene non di meno cosa che un trader potrebbe tranquillamente non fare potrebbe andare in leva a prendersi altre altre percentuali non lavoro così chi lo sa chi mi segue lo sa già non lavoro così perché quando voi parlate di trading bisogna capire anche l'esposizione il rischio quanto capitale avete c'è chi deve moltiplicarlo il capitale quindi magari alza l'asticella del rischio c'è chi invece lo deve tranquillamente salvaguardare e non ha bisogno di andare in leva per fare chissà quale gain perché ricordo se entrate a mercato con 50 mila euro e fate il 10 per cento fate 5 mila semplice se voi entrate a mercato con 500 e fate il 10 per cento fate 50 dollari quindi non vi interessa uscire e quindi invece del 10 per cento volete prendervi il 15 volete prendervi il 20 oppure andate in leva ok perché questo che succede e se voi entrate in leva 100 secondo me nel lungo periodo andate a perdere i fondi poi dopo fatelo non mi interessa niente perché tanto ci sarà chi dice che leva 100 ha trovato la strategia della vita e guadagnerà come un si farà la lamborghini prima di natale seguite quelle persone seguite quelle persone perché io non opero così quindi se vi aspettate questi colpi della vita dove io vado in leva a 100 per 50 per 200 per no non c'è non le vedrete queste cose sul canale quindi vi dico allontanatevi cioè non perdete tempo qui non ascoltate quello che dico io perché perdete tempo ok io chiaramente ho un capitale da salvaguardare devo devo stare sotto a delle regole molto precise molto ferre che nel nel mio percorso mi hanno permesso di arrivare dove sono ora ma non è detto che questo percorso magari possa essere intrapreso da altre persone in maniera diversa e arrivare comunque a guadagnare ci siamo io non dico che gli altri metodi siano sbagliati io vi dico attenzione perché se andate ad operare in leva secondo me il conto lo polverizzate perché se poi a questo aggiungete poca esperienza poca strategia pochi capitali e tanta fomo vista da forum robe varie che tutti guadagnano e voi no andate a perdere soldi questa è l'unica cosa sicura del trading che li perdete i soldi anzi non li perdete li polverizzate va bene non vi danno nemmeno il trading non vi danno nemmeno la possibilità di riprendervi qualche volta quindi state attenti detto questo andiamo a vedere cosa farà questo cavolo di grafico io credo di essere stato abbastanza abbastanza con le cose che volevo vedere credo le abbiamo viste tutte hanno che manca il gold tensione materie prima attenzione ultima cosa dopo non vi rompo più le scatole potete tornare a fare quello che stavate facendo guardiamolo prima sul daily poi vi faccio vedere rottura della media 200 periodi l'abbiamo rotta eccola qui io sto aspettando la liquidità da sbilanciare che è esattamente quello che sta facendo quindi presa di liquidità di questa zona io mi sto cioè in realtà sto scusate sto sbagliato strumento in realtà sto aspettando che anche questa magari sia una qualcosa di presa di liquidità se io vedo che torneremo a rompere la zona dei 200 periodi andiamo a riprenderci questa zona di fervelli intorno ai 1900 dopo aver avuto confermi di questa rottura della trend line dinamica allora posso cominciare a costruire una bella posizione long anche sul gold torniamo al discorso del gold guardate infatti pax gold con bitcoin guardate come ha messo il grafico ovvero se questo canale che ho disegnato dovesse essere un'inversione quindi un inizio di inversione ci siamo quasi perché se andiamo a riprenderci queste zone qui confermiamo la rottura della media 200 periodi confermiamo che abbiamo rotto questa questa trend line che si è che si è sta generando qui qui cominciano ad esserci tante conferme per un long ok scusate lo rifaccio vedere se non si fosse capito quindi trend line che rompiamo la trend line andiamo al mio strumento la rottura di questa trend line recupero di questo canale questo canale a rialzo lo vedete questo in verde tratteggiato perché ancora non è ufficiale quindi è tratteggiato recupero della media 200 periodi questa zona qui potrebbe potrebbe assolutamente essere buona per un long bene long di medio periodo detto questo abbiamo detto tutto se siete arrivati qui scrivete sono un drago alla fine del video perché se avete ascoltato questa ramanzina questo monologo dall'inizio siete dei grandi vi ringrazio e grazie a voi che arrivate fino a qui che io faccio queste analisi per tutto questo tempo e spero abbiate capito che non avendo ritorno economico in nessun modo sono contentissimo se voi commentate vi scrivete lasciate qualche like per farmi capire questa roba non la faccio per per il niente cosmico no vi saluto vi aggiorno qualsiasi cosa potete scrivermi vi ricordo sempre su telegram andate sul canale telegram perché tanti aggiornamenti li do lì prima ancora che mi chiediate qualcosa vi ringrazio vi saluto ci vediamo la prossima ciao ragazzi ciao ciao